Pubblicato dalla Regione, Abruzzo crea l'avviso che si pone l'obiettivo di facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale attraverso la concessione di garanzie alle imprese che vanno dal 50 all'80% del finanziamento erogato, privilegiando quelle meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario. Un bando importante, Abruzzo crea 13 milioni di intervento di fondi comunitari ma soprattutto un bando che sviluppa ben 100 milioni di finanziamenti per finanziare oltre 1300 piccole e medie aziende che vanno dall'artigianato all'industria, al commercio, ai professionisti e al turismo. Quindi un bando aperto che supera alcuni steccati, anche quello della trasparenza e anche quello della sburocratizzazione perché si va direttamente sul portale e si può interagire con il proprio consulente o direttamente l'azienda. Credo che questo sia un segnale importante per le piccole imprese abruzzesi che rappresentano il 93-92% del sistema economico che hanno difficoltà di accesso al credito, qui invece arriviamo addirittura con garanzie al 50% fino anche all'80% che sono quindi percentuali fortemente suggestive per il mondo imprenditoriale. Il sistema bancario purtroppo non abbiamo più istituti importanti tranne le BCC ma già gli istituti nazionali hanno guardato con attenzione questo nuovo indirizzo della regione. Seguiranno altri banti con novità importanti ma questo credo che sia un esempio di come bisogna lavorare. Questo è un primo bando che ci permette di capire quello che dobbiamo scrivere sulla nuova programmazione 21-27 che oggi non è stata neanche immaginata, invece noi vogliamo cominciare a capire ciò che ci interessa per la prossima programmazione e ciò che interessa ai portatori di interesse al mondo imprenditoriale. Utilizzati per facilitare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese abruzzesi, residenti quindi sul territorio abruzzesi e anche nei confronti dei professionisti, dei giovani professionisti in quanto assimilate a questo tipo di categoria. Uno degli interventi che io non esito a definire più importante e più massivo nella storia della regione Abruzzo per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese.